buonasera i nostri 30 minuti questa volta li dedichiamo anzi ce li dedica il presidente del ditt del distretto integrato turistico ternano gabriele giovannini grazie per essere qui con noi grazie a voi buonasera come potete immaginare stasera si parla di turismo perché perché il turismo sta diventando sempre di più una voce importante anche nella dialettica tra partiti tra privati e pubblica amministrazione insomma c'è questo obiettivo questo faro lontano del turismo che può diventare un elemento chiave della rinascita della città per cui noi siamo andati abbiamo il piacere di poterne discutere con chi di turismo insomma se ne intende in quanto è operatore del settore operatore diretto nel settore ma anche come detto presidente di una struttura che di turismo se ne interessa ormai da anni allora intanto io faccio partire la mia clessidra con un solito ritardo perché avrei dovuto farlo prima ma insomma pazienza scuseranno se non arriveremo alla fine dei nostri granelli azzurri allora il turismo io sento parlare di turismo in modi completamente diversi c'è chi lo vuole come chiave della rinascita della città magari anche cambiando la storia della città di terni non lasciando da una parte l'industria puntiamo tutto sul turismo che invece dice ma a te nel turismo non si può fare perché c'è niente da vedere sono i tuoi estremi lei come si colloca in mezzo da una parte o dall'altra lavorando in questo ambito ormai da molti anni in modo pragmatico posso soltanto collocarmi al centro in questa situazione nel senso che secondo me credo che il turismo possa essere una grande opportunità per la realtà ternana e del comprensorio dire che possa sostituire completamente altri settori mi sembra esagerato possono convivere tranquillamente e contribuire in modo armonico allo sviluppo del territorio e dell'economia si può dire però che terni questo sì mi pare ha riscoperto una certa vocazione turistica questo sì è bene che questo stia accadendo abbiamo ancora tanto da fare e però sì terni ha una sua vocazione turistica a dispetto di qualcuno che ultimamente ci ha detto che siamo una città bruttissima le opinioni ognuno ha le sue credo che una lista di città brutta secondo me che non finisce più ma anche di città belle per carità ma ogni città ha scorci bellissimi e altri meno belli con questo non credo che si possa aggiungere a una definizione obiettiva e definitiva e oggettiva che dica questa è bella e questa è brutta sicuramente terni ha tante cose belle e vicino anche qualche cosa che non è così bello ma dove non ci sono io credo che ci siano in tutte le città quindi gli estremismi rilasciamo rilasciamo da parte o perché terni ha riscoperto e quando secondo lei ha riscoperto questa vocazione turistica allora diciamo che grazie al covid è cambiato il modo di fare turismo non soltanto da noi credo in giro per il mondo in particolare sì in italia si rende conto quello che ha detto grazie al covid il mondo è cambiato non possiamo che prenderne atto e farcene una ragione e operare conseguentemente ci sono fenomeni che sono più grandi di noi che non possiamo assolutamente governare uno di questi è il covid ha cambiato le abitudini credo in modo abbastanza definitivo ci sarà sicuramente un ulteriore evoluzione come in tutte le cose e quindi vedremo nei prossimi anni cosa accadrà adesso la gente si muove cercando di evitare i luoghi più affollati questo è il mantra e quindi va a riscoprire le piccole realtà i piccoli borghi e dove non c'è appunto l'affollamento proprio per la paura legata a questo virus da qua negli anni 60 non c'era il turismo di massa perché non c'erano i soldi no e quindi i turisti veri no erano quelli che avevano più capacità possibilità economiche poi è diventato lentamente il turismo si è trasformato in un turismo anche di massa perché poi la realtà è questa adesso dice lei stiamo ritornando un po indietro perché la gente evita la massa quindi va a cercare a riscoprire località che probabilmente prima non è che trascurava l'aveva proprio cancellata è vero quindi c'è questa nuova tendenza che dobbiamo cavalcare e cavalcare in modo intelligente quindi ci dobbiamo strutturare organizzare per un turismo in grado di gestire i clienti che arrivano dare dei servizi adeguati e lasciare un buon ricordo e che servano da volano da promozione per l'ulteriore sviluppo io ho un dato che è emerso poi dal dei vostri conti non è che da quelli della regione ovvero 500 mila turisti alla cascata delle marmore 300 mila orvieto faccio il conto il ternano può aver ospitato un milione di turisti no perché ci mettona amelia un conto grossolano ovviamente il mio un milione di turisti io se leggo le dichiarazioni sia da orvieto che da terni per cui 300 per quei 500 sono un traguardo straordinario secondo lei è un traguardo straordinario è una base di partenza io mi auguro e credo che possa essere una base di partenza dipende veramente da noi perché queste onde che si sono determinate e poi vanno in qualche modo gestite in modo intelligente quello di cui stavo accennando prima quindi se siamo in grado di strutturare e di migliorare proprio dobbiamo ancora strutturarlo un turismo un'accoglienza turistica con una serie di servizi che ci permettano poi di far sì che diventi un'onda lunga che sia un crescendo può essere tranquillamente una base e abbiamo tutti i requisiti perché ciò possa accadere già nella situazione in cui ci troviamo parliamo per esempio subito dei posti letto i posti letto tanti credo ignorando dati puntuali che abbiamo qui a disposizione al nostro tavolo certo no possiamo dichiarare affermare con certezza senza possibilità di smentire che abbiamo una buona quantità di posti letto che in pochi giorni dell'anno vengono occupati completamente ma mediamente non sono poi così utilizzati e da qui cosa si trae come conseguenza che se non si sfrutta il turismo e si crea i presupposti per un allungamento delle stagioni per una permanenza del cliente offrendo servizi aggiuntivi se non si struttura appunto come stavo dicendo il turismo in modo intelligenza l'offerta turistica noi abbiamo troppi posti letto rispetto a quelli che vogliamo dire quali sono soltanto a terni si 2618 si abbiamo 2618 posti letto che significano che ci sono a disposizione 710 mila 518 posti letto in un anno a disposizione e quanti ne sono stati occupati se andiamo a vedere in termini percentuali per quanto riguarda le strutture qui stiamo parlando dei dati ufficiali della regione e del periodo in gennaio ottobre 2022 e confrontati tra l'altro pochi con i dati dello stesso periodo del 2021 ma attenzione come stavamo accennando il covid in qualche modo anche nel 2021 ha giocato un qualche ruolo anche se devo dire che il 2021 è stato un anno estremamente positivo specialmente nel periodo estivo sì perché c'è stata la liberalizzazione in estate abbiamo avuto una quantità di presenze che non avevamo mai avuto nel periodo estivo prettamente estivo così come nel 2022 quindi dicevamo quindi che se andiamo a vedere proprio terni abbiamo un'occupazione del 41 34 per cento per quanto riguarda le strutture alberghiere le licenze ed epoca per tutte le altre strutture extra alberghiere aria aperta e locazioni e l'occupazione molto più bassa come normale che sia il 19,69 per cento quindi con una media generale del 28,84 per cento quindi di 710 mila possibilità di posti letto in un anno li riduciamo di due mesi insomma fare una proporzione io 500 mila posti letto noi ne abbiamo occupati il 29 il 29 per cento pochissimo mi metto dal messo i miei panni da imprenditore da imprenditore sfido chiunque a riuscire a portare avanti un'azienda con queste occupazioni è estremamente difficile quindi a chi auspica una crescita turisti e una crescita dei posti letto bisogna sapere da cosa partiamo questi sono i dati ufficiali allora ci si salva solo in un modo spesso le strutture extra alberghiere sono gestite a livello assolutamente familiare e quindi spesso questa attività è un'attività aggiuntiva rispetto all'attività agricola rispetto ad altri redditi comunque che arrivano dentro la famiglia e quindi in qualche modo viene comunque gestito non ci sono dipendenti per cui c'è un abbattimento dei costi importanti il problema più grosso in parte che sta anche nelle strutture extra alberghiere perché spesso quando andiamo su strutture più grandi che hanno personale è difficile riuscire a gestirle proprio perché i numeri non consentono di farlo mantenere un dipendente tutto l'anno o comunque in periodi abbastanza lunghi e per occupazioni così basse è veramente difficile per gli alberghi la cosa è migliore perché parliamo di un'occupazione di 41,34 per cento tra l'altro devo dire che scorrendo qua i dati della regione Terni ha una la maggiore occupazione in Umbria rispetto al numero dei posti letto disponibili e quindi questo già è una cosa estremamente positiva estremamente positiva ma è legato questo anche ad un fattore ben preciso a Terni c'è come dicevamo prima qualcuno dice che il turismo dovrebbe sostituire le altre attività no no qui è la di questa è la dimostrazione che sopravvivono e vanno bene entrambe insieme e che dobbiamo anzi sempre di più lavorare perché questo possa continuare le nostre strutture lavorano durante la settimana con le aziende e nel fine settimana o nei periodi di festa o durante i periodi estivi lavorano con il turismo quindi leisure e quindi questo connubio per noi è fondamentale per poter andare avanti le altre località in giro per l'Umbria non sempre hanno queste caratteristiche e quindi soffrono di più questa situazione e poi bisognerebbe andarle analizzare una per una perché ci saranno situazioni in cui gli alberghi non sono aperti tutto l'anno per esempio e quindi i dati che vediamo noi invece sono annuali per cui andrebbero un attimino valutati con maggiore attenzione allora il quadro già si comincia a formare no cominciamo a capire il meccanismo del turismo nella nostra città parlo del ternano però insomma andiamo oltre terni per anni terni turismo ha significato cascata delle marmore e un po di meno piedi luco terni si diceva ma che vai a fare insomma non c'è niente sarà fabbrica vai direttamente era un turismo classico mordi e fuggi arrivano i pullman una mattina o con le moto o con le macchine vedono la cascata si mangiano un panino con la porchetta o quello che vuoi e poi come comincia a fare a ombreggiare diciamo a fare notte se ne vanno e quello non è turismo che è un'altra cosa per cambiare questo abitudini queste abitudini bisogna fare qualcosa di importante allora i dati che abbiamo a disposizione sono molto chiari se andiamo a vedere il totale dell'occupazione dei posti letto riferiti ai numeri della cascata delle marmore ci rendiamo conto che soltanto una piccolissima parte delle persone che viene a visitare il nostro territorio permane attenzione questo è un dato complessivo se lo andiamo a scomporre consideriamo che all'interno di questi dati ci sono anche le persone che vengono per lavoro durante la settimana e che stanno effettivamente più di un giorno altrimenti non comparirebbero neanche in questi dati ci accorgiamo che effettivamente la quantità di persone che vengono per leisure nel nostro territorio si ferma troppo poco e qui dobbiamo lavorare perché lì c'è lo spazio per poter crescere per poter portare quella che è non turismo perché è una visita giornaliera il turismo sia quando c'è almeno un pernottamento altrimenti non è definito tale trasformare questa potenzialità in una realtà e questo lo si può fare soltanto con un grande sforzo corale dei singoli operatori delle associazioni dei consorci e delle amministrazioni ma che devono assolutamente la storia che lo insegna lavorare insieme per andare nella stessa direzione fa crescendo una pianificazione pluriannuale una programmazione annuale di tutta una serie di eventi che non possiamo permetterci di aspettare l'ultimo minuto per sapere se si realizzeranno o meno c'è stata una novità nell'ultimo periodo quella del biglietto ampio diciamo il biglietto unico un biglietto unico per la cascata delle marmore per carsole per i musei insomma per tutta ha funzionato secondo lei o è ancora troppo poco? per invogliare lo diciamo questo a favore dei nostri ascoltatori il biglietto unico perché perché tu vai alla cascata delle marmore però ti accorgi che ci sono altre cose da vedere magari programmi una notte a terni per vederle il giorno dopo quindi il meccanismo è soltanto questo non è un incassare di più perché sarebbe sciocco ha funzionato va migliorato va cambiato va cancellato secondo lei che risposta ha dato? secondo me va nella direzione giusta è corretto fare il biglietto unico e ampliarlo a un numero maggiore possibile di siti e di interesse non solo che riguardino il comune di Terni ma allargarlo addirittura a livello provinciale e se possibile regionale è un tentativo che stiamo operando ormai da molti anni con grande difficoltà come al solito con la voglia di protagonismo da parte di alcuni che poi determina il fallimento del tentativo di effettivamente fare un biglietto unico regionale che sarebbe una cosa estremamente utile e che permetterebbe effettivamente invoglierebbe il nostro cliente a permanere sul nostro territorio ma questo è soltanto uno degli elementi altri elementi ci sono secondo me fondamentali quindi è i servizi che riusciamo a proporre al cliente e gli eventi che riusciamo a proporre al cliente nella storia gli eventi sportivi lo dico anche per esperienza personale sono quelli che attirano il maggior numero di persone in città perché è normale se vengono 3.000 atleti a gareggiare non è che possono dormire all'addiaccio vanno negli alberghi poi c'è tutta una serie di persone che sono con gli atleti insomma le grandi manifestazioni fanno spostare un numero di persone elevato e in quei giorni magari arriviamo anche al tutto esaurito allora qual è la ricetta organizziamo più eventi ma possono essere soltanto gli eventi sportivi a svolgere questa funzione non è un po' riduttivo? è assolutamente riduttivo devo ricordare però questa è una cosa di cui bisogna essere fieri e dar merito alle amministrazioni che in realtà si sono susseguite nel tempo noi siamo tra le città più attrezzate per eventi sportivi in Italia qualche anno siamo stati la seconda dopo un anno seconda in Italia con la nostra dimensione così modesta pensare di essere stati secondi in Italia significa che siamo effettivamente ben attrezzati e mi sembra che ci stiamo attrezzando ancora meglio e questo è un plus per noi fondamentale speriamo che presto si riesca a completare il palazzetto dello sport lì nella zona del stadio che per noi sarà sicuramente un carta da giocare assolutamente vincente che ci porterà a aumentare il numero di questi eventi a livello nazionale e internazionale vista la dimensione della struttura non credo di sbagliare l'amministrazione comunale sta programmando e sta mandando in appalto l'esecuzione di altri interventi a livello spostitivo che riguardano Tiro con l'arco Centro Remiero Centro Remiero e che riguardano anche un altro palazzetto la realizzazione di un altro palazzetto alla zona cospea sì in questo senso c'è da dare applauso anche alle federazioni sportive alle società sportive che investono del loro che ci lavorano tanto quindi quello che diceva prima è la sinergia tra pubblico e privato è fondamentale se non ne viene fuori non a caso noi collaboriamo su questo ci crediamo e lo dimostriamo con i fatti come DIT anche con le associazioni sportive e alcune di queste fanno direttamente parte della nostra compagine sociale proprio perché vogliamo insieme con loro operare essere al loro fianco e viceversa averli al nostro fianco nel tentativo anche perché spieghiamo la funzione del DIT cioè quando ci sono i grandi eventi sportivi le società che lo organizzano si rivolgono al DIT e organizzano con il DIT l'accoglienza quindi è un lavoro importante che fa credo di sì in questi anni già in passato ma insomma abbiamo fatto operazioni importanti nel fine 2021 abbiamo gestito tutti i trasporti e i pernottamenti le presenze dell'anno che verrà abbiamo gestito i campionati del mondo di Tricollarco 3D stiamo a fianco alla federazione della scherma per i parolimpici certo per i parolimpici quindi me lo consente una parentesi il discorso parolimpici qualche problema in più c'è sì perché la dotazione di camere per disabili o per diversamente abili è inferiore rispetto a quella che dovrebbe essere questa è una nota dolente effettivamente sì diciamo che siamo abbastanza strutturati in realtà e una manifestazione come questa già negli anni passati l'abbiamo ospitata con successo tanto che c'è stata la possibilità di riproporla altrimenti non saremmo stati neanche presi in considerazione e è tutto vero c'è la necessità di una maggior collaborazione e attività da parte degli imprenditori anche in questo caso devo dire perché bisogna creare questi posti all'interno delle nostre strutture ma non è facile perché nonostante i dati positivi perché sarei uno sciocco se non dicessi questo perché 2021 e 2022 abbiamo avuto specialmente nel periodo estivo presenze che non avevamo mai avuto negli anni precedenti quindi la situazione da questo punto di vista è positiva purtroppo viviamo in una realtà in un contesto in questo momento tale per cui la forza imprenditoriale nonostante tutto si è fiaccata per quale motivo perché a fronte di queste entrate abbiamo dei costi che sono moltiplicati e che non riusciamo a sopportare nonostante tutto i nostri bilanci non sono belli assolutamente perché? perché scontiamo tutti i problemati che stiamo vivendo l'energia in particolare certo una struttura alberghiera nella sua piccola realtà però tra i costi più importanti è quello energetici certo e con i prezzi dell'energia alle stelle pur avendo aumentato un pochino i prezzi pur avendo avuto delle presenze importanti non riusciamo a far fronte a questa situazione per cui un imprenditore che deve mettersi in testa nonostante le agevolazioni possibili in alcuni casi che poi non sono sempre così facili di dire va bene ristrutturo faccio altre cambio l'ascensore miglioro queste camere i servizi per l'accesso ai ristoranti è estremamente complicato difficile è una sfida importante in questo contesto anche in considerazione del fatto che purtroppo non so per quale motivo c'è la bella mania in tutta italiana di presentare la possibilità di avere contributi per fare le cose e poi dopo stranamente non si capisce come mai spesso e volentieri spariscono o non si riesce ad acquisirli o se si acquisiscono bisogna restituirli ma non siamo mica non è assolutamente vero che siamo tutti quanti ladri eh assolutamente no allora se lo Stato l'ente di turno fa un bando semplice chiaro senza trabocchetti continui per cui si arriva alla fine e ci si ritrova in grandi difficoltà ma apriremo un capitolo che difficile mi viene soltanto in mente una cosa che ve la voglio dire perché deve servire a tutti noi a me per primo per riflettere da alcuni anni lo Stato sta dando contributi per ricerca e sviluppo alle aziende adesso è stato eh prolungato il tempo per condonare queste situazioni perché in realtà le imprese che hanno fatto questi tipi di investimenti se le sono viste sistematicamente accertare dall'agenzia delle entrate nonostante il ministero avesse detto si va bene e a questo punto lo Stato dice guarda non ti facciamo niente se ci restituisci tutto ah meno male siamo a questo ma si può lavorare in questo modo poi è difficile è difficile veramente sarebbe molto meglio come ho detto altre volte che invece di dare contributi agevolasse in altro modo lo Stato direttamente per esempio intervenendo sull'energia no piuttosto che poi ridando indietro contributi per far fronte a questi problemi perché ogni volta si innescano dei meccanismi per cui si è sempre a rischio di essere accettati ma curiosità funzionato il bonus turismo il bonus turismo ha funzionato un pochino non in modo straordinario però devo dire che ha dato un contributo sì quindi quello non so adesso mi parla di bonus turismo io conosco due bonus turismo l'uno è quello i voucher che avevano dato non so se si riferica a quello poi invece c'è stato proprio un bando bonus turismo a cui io come impresa ho partecipato mi hanno assegnato dei contributi è sempre estremamente complicato hanno fatto una gradatoria l'hanno ricambiata hanno rimodificato tutto i voucher non hanno funzionato la gente non c'è venuta i voucher un po' di voucher sono stati utilizzati non è vero sono stati utilizzati anche i voucher questa è la dimostrazione che se fai qualcosa di facilmente fruibile un po' funziona i voucher hanno funzionato questa del bonus turismo per bonus alberghi io stremo perché sono tra colori uguali stanno facendo gli investimenti e ci dovrebbero dare una parte in conto capitale e una parte in conto imposte tremo perché anche in questo caso è tutto estremamente farraginoso sono molto preparato sono presuntuoso sono molto preparato in termini di contributi spesso vado a attingere per fare i miei investimenti quindi credo di avere un minimo di conoscenza e vi dico che è estremamente complicato hanno tirato fuori due volte le graduatorie le hanno cambiate e non si capisce neanche quale sia l'algoritmo con cui non l'hanno pubblicamente pubblicamente detto quale sia l'algoritmo con cui hanno calcolato addirittura questi contributi passa il tempo intervento a rischio capito allora siamo nella parte finale dei nostri 30 minuti ce li stiamo sciupando ce ne vorrebbero 60 almeno però va bene dobbiamo stare nei 30 minuti le chiedo io ho sempre un'idea personale di grandi di associazione di comuni perché sul turismo non puoi a mio avviso non puoi ragionare come Terni già Terni è piccola L'Umbria è piccola se ragioni sono come Terni hai perso in partenza a mio avviso secondo lei qual è la possibile ricetta esagero insomma una allora chiamiamola una delle possibilità per poter fare per poter crescere per poter migliorare questo andamento turistico è comunque in crescita unione dei comuni pubblico privato programmazione pluriennale allora io penso sarebbe opportuno fare queste cose primo come accennavo già all'amministrazione Ternana sarebbe visto che è il comune più importante qui nella nostra provincia sarebbe fondamentale che facessero un appalto pluriennare con un accordo quadro mandano in gara con un soggetto che ha i requisiti per poter gestire tutti gli eventi che si fanno durante l'anno programmarli attingendo con chiarezza ai fondi che vengono dal turismo uno dei pochi settori se non l'unico per quel poco che conosco che è inattivo al comune di Terni perché la cascata di Marmole porta ingenti somme che vengono investite in piccolissima parte nel turismo è una fonte certa quindi se il comune di Terni San Valentino febbraio si fa sicuramente con i fondi della cascata perché se si lavora per dodicesimo il bilancio non è pronto non può essere pronto però siccome abbiamo individuato la fonte si potrebbe fare come fanno ormai altri enti questo progetto mandarlo in gara individuare un soggetto che lo porta avanti insieme con l'amministrazione con anche altri soggetti che stanno sul territorio in modo da dare certezze poter programmare la stagione e poter far sì che quando arriva il turista noi già abbiamo programmato la nostra stagione siamo in grado di andare a proporre la nostra offerta fatta di servizi di eventi che si affiancano alla cascata delle marmore l'altro elemento fondamentale è che insieme lo si faccia con gli altri comuni evitando questi protagonismi sciocchi secondo me vincente è andare a lavorare insieme fare dei programmi comuni anche con le altre amministrazioni perché il turismo non è solo la cascata delle marmore per esempio abbiamo individuato con chiarezza che un binomio vincente è la Narni sotterranea con la cascata delle marmore è evidente a tutti ci sono dati inconfutabili su questo il Vescovo di Terni nell'incontro avuto con noi giornalisti per celebrare San Francesco da Sales che è il padrono dei giornalisti ha dato un'idea ha detto ma perché non valorizzare il patrimonio storico e culturale della città perché ci sono tante cose che la gente nemmeno i ternani conoscono è una strada anche questa come vedete partecipano tutti al dibattito quindi io credo che sia giusto a raccogliere tutte queste idee alcune saranno praticabili altre no altre meno però è una città che discute di questo questo si deve fare andare avanti insieme coinvolgendo esperti dall'esterno e dall'interno del contesto e individuare dei programmi comuni da portare avanti negli anni non possiamo continuare a improvvisare costretti dalla burocrazia ad aprire l'info point della cascata di marmore quest'anno l'abbiamo vinta noi la gara il 12 agosto non va bene ma non ne faccio una colpa all'amministrazione bisogna però da questa esperienza tirare fuori poi delle considerazioni e andare avanti e andare avanti che cosa significa programmare programmare attingendo dalla cascata dai fondi della cascata di marmore fare almeno un programma secondo me andrebbe fatto a 4-5 anni ma almeno iniziamo con un anno intero sarebbe già tanto così che possiamo andare alle fiere alle manifestazioni portando il nostro programma dicendo questa è la nostra offerta turistica mettere sui nostri portali su quello del comune che è in corso di ristrutturazione grazie anche alla nostra partecipazione trovare tutti i canali migliori possibili per promuovere la città la nostra Glessitra è arrivata alla fine purtroppo è arrivata alla fine quindi io devo inevitabilmente chiuderla qui ringrazio Gabriele Giovannini spero che sia stato un incontro utile anche per capire per conoscere una situazione reale che è quella del turismo a Terni spero anche che da questa chiacchierata possa essere uscita qualche idea per qualcuno così poterla cogliere al volo speriamo per me è stato un vero piacere vi ringrazio per l'invito e ci saranno altre occasioni è un piacere veramente grazie buona serata a tutti buona serata e grazie per averci ascoltato grazie